Franco, Sfato, allora buonasera, benvenuti e a questa serata dove parleremo di... Così, grazie, sullo più russo, grazie. Niente, sera parleremo di scienza e cinema e quindi ci divertiremo molto perché faremo una camminata attraverso tante immagini e tante storie che in parte conosciamo e in parte no. Io quando mi avventuro sempre nelle storie di cinema esco sempre con un sacco di ricordi che vengono a galla e anche una lista di cose che invece non conosco ancora come dovrei, una lista di film da vedere, di cose da andare a conoscere meglio. Allora, mi presento, io sono Paolo Tozzi, sono un astrofisico e lavoro all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, che è parte dell'INAF e sono qui per un motivo principale, diciamo, che è quello di... insomma, che recentemente nel mio fare scienza, nel mio lavoro di ricercatore e non solo, anche nella parte di comunicazione della scienza, mi sono sempre più spesso chiesto quanto sia importante recuperare una narrazione della scienza, cioè qual è il modo migliore per raccontare la scienza. Perché di fatto un po' tutto quello che facciamo, tutta l'attività umana, diventa racconto e per come, appunto, io ovviamente sono di parte, no? Ma per quello che è il ruolo della scienza, è il ruolo che la scienza gioca nella società contemporanea, raccontarla in maniera efficace e coinvolgente è importante, anche perché vediamo tantissime narrazioni che in realtà sono molto... hanno una potenziale negativa molto forte, l'abbiamo visto recentemente nella nostra storia recente, ma lo vediamo anche attraverso tutta la storia dell'ultimo secolo. Ci sono narrazioni che si agganciano molto facilmente al nostro modo di pensare, a volte in maniera completamente inconscia, e che hanno invece delle valenze molto negative, tutto quello che riguarda il legazionismo, uso questa parola in termini molto generici, ovvero in qualche modo il sentirsi lontano da una conoscenza, da una quantità di informazioni e di conoscenza che ci serve per poter vivere all'interno appunto di una società sempre più complessa, per sostituirli in realtà con qualcosa di più semplice e in qualche modo sossopire quella che è l'angoscia che ci crea stare in... vivere in una società così complessa. Ora, questo discorso così generale, no? Così un po', no? Roboante, se vogliamo, è bello anche declinarlo in quello che è appunto la narrazione che a volte chiamiamo popolare, ovvero il cinema, i fumetti, la letteratura, quella che a volte viene classificata non come letteratura alta, ma che in realtà lo è, lo è perché in tantissimi casi ci permette proprio di attraversare questa contemporaneità. Ora, appunto, scienza e cinema è il tema di questa sera, e introduco brevemente appunto i personaggi qua che sono accanto a me, cominciamo dalla destra, cominciamo dal professor Marco Ciardi, sono tutti personaggi molto prolifici, quindi dirò solo pochissime cose da quelle che hanno fatto. Marco è professore di storia delle scienze e delle tecniche al Dipartimento di Lette e Filosofia all'Università di Firenze e si occupa di storia del pensiero scientifico, sia moderno che quello contemporaneo, e si interessa in particolare a quello che sono i rapporti, come diciamo appunto, tra la scienza e letteratura, il cinema, i fumetti, quindi la fantascienza, il fantasy se vogliamo, ma anche la parte più oscura, come in qualche modo ho preannunciato prima, cioè la pseudoscienza, la magia, scoprendo appunto quali sono i legami virtuosi, quindi meno virtuosi. E in ultima analisi appunto le relazioni tra la cultura scientifica, l'educazione e la democrazia, cioè la struttura, il tessuto della società in cui viviamo. Andrea Sani, quindi Marco Ciardi e Andrea Sani sono i due autori del libro di cui parliamo oggi. Andrea Sani ha insegnato per molti anni storia e filosofia nel liceo ai fiorentini, si occupa quindi di filosofia, cinema e fumetti, infatti tra le sue opere appunto anche lì vi ho detto potrei citare tantissimi libri che hanno pubblicato, ma questo è abbastanza significativo rispetto al tema di questa sera che è come scoprire la filosofia al cinema e anche manuali di storia della filosofia con la casa editrice alla scuola. Alberto Beccatini, Alberto qua alla mia sinistra, si laurea in lingue e letterature straniere e insegna inglese nei licei. E' storico, insegnava, no però insomma a vederlo sembra proprio che sia ancora sul pezzo come si dice. E' uno storico dei comics, è un'autorità a livello mondiale soprattutto perché riguarda il fumetto classico americano e poi si occupa anche di illustrazione e cinema con un numero di articoli pubblicati soprattutto su oggetti disneyani come dicevo e autore di vari saggi tra cui uno dei più famosi che cito perché è stato uno dei primi che comprai quando appunto mi avvicinavo al fumetto che sono i disney italiani che anche tu ricordi con piacere e anche qui abbiamo un altro autore dei disney italiani e poi c'è il terzo, Leonardo Cori Leonardo Cori che doveva venire e non è venuto. Niente, diciamo, ritornando al tema della scienza e della narrazione sia nella letteratura che nel cinema la mia visione è che nella prima parte, nell'Ottocento e poi nella prima parte del Novecento la scienza naturalmente scorreva proprio nelle vene della narrazione c'era un ottimismo e una fascinazione immediata nel portare la scienza in un racconto questa cosa cambia in particolare ora chiaramente è una riduzione veramente molto molto semplice con le bombe atomiche ovviamente da lì in poi i temi scientifici sono sempre più associati alla paura della fine di qualcosa che non riusciamo a controllare quindi di un pericolo che non riusciamo a identificare questa prima parte, diciamo, la parte positiva in cui la scienza naturalmente entra nella narrazione è raccontata ad esempio in questo libro di Marco Charlie che è Quando a Darwin incontrò Flash Gordon un libro che è uscito poco prima di questo perché appunto, come dico spesso, il professor Charlie scrive più di Stephen King come produzione letteraria mentre invece nel libro non so se fai paura come Stephen King ma insomma, magari a essere capaci di arrivare a quei livelli mentre invece questo libro parla della seconda parte diciamo è più spostato su quello che accade dopo la seconda guerra mondiale e nella narrazione cambia e nel cinema si incontra sempre più spesso appunto il tema della scienza come portatrice di instabilità e di paura per l'uomo contemporaneo brevemente il libro di Marco e di Andrea appunto è diciamo colma un po' un vuoto perché di solito quando si parla di occasionalmente di cinema e scienza lo si fa elencando film e qui si cerca di sistematizzare un po' il tema dividendolo per argomenti che possono essere appunto che sono poi nel libro appunto per esempio quelli della biografia scientifica quindi la biografia di scienziati le scoperte e le teorie cioè come avvengono le scoperte e le teorie come queste sono raccontate o come si inseriscono nei racconti la figura dello scienziato che ruolo ha che a volte appunto è un deus ex machina positivo a volte è lo scienziato pazzo che minaccia l'intera umanità come temi come meccanica quantistica quindi estremamente complessi alla fine riescono a diventare elementi della narrazione la fantascienza la fantarcheologia il cinema di animazione la scienza del cinema di animazione e poi anche le collaborazioni in maniera concreta le collaborazioni di scienziati alla stessura di sceneggiature alla realizzazione di film e insomma viene fuori appunto che molto spesso avviene che anche film che descrivono mondi completamente fantastici e immaginari in realtà ci stanno parlando di scienza ci stanno parlando di il senso di stupore e di meraviglia che poi è quello che ci porta ad interessarci a farci le domande su com'è realmente il mondo e quindi c'è un po' questo contrasto tra quello che a volte è sono le visioni che sembrano completamente lontane da realtà e invece poi la narrazione che improvvisamente lavorando dentro di noi ci riporta ad un senso di curiosità e di legame profondissimo con quello che è il mondo che ci circonda il cinema appunto io racconto sempre questo episodio perché è un ricordo personale a cui sono molto legato per motivi affettivi una volta parlavo mi sento a parlare col regista di un film di una ventina più di venti anni fa ormai purtroppo si chiama Shadow of the Vampire l'ombra del vampiro non so se ve lo ricordate era The Making of uno sferato di Murnau e il regista era Elias Merridge e quindi raccontava raccontava in maniera diciamo romanzata fantastica appunto il girato come è stato girato uno sferato di Murnau e lui mi faceva notare come ora non voglio fare spoiler se potete vedere il film ma insomma il punto è che Max Schreck che è l'attore nella finzione di questo film Max Schreck era in realtà un vero vampiro lui mi faceva notare come il modo in cui aveva reso il set del uno sferato di Murnau all'interno del film era quella di un laboratorio quindi di un esperimento scientifico il regista col camice bianco la cinepresa la strumentazione le luci perché di fatto era diventava il film una scusa per studiare questa creatura misteriosa che era il vampiro che era stato convinto a recitare anche se poi appunto come potete immaginare si allarga un po' nel suo ruolo di vampiro non soltanto diciamo nella finzione all'interno del film The Shadow of the Vampire e quindi mi faceva mi diceva guarda che il cinema come lo racconto in questo film è in realtà un esperimento scientifico cioè il cinema diventa uno strumento di esplorazione della realtà e quindi un modo per svelare la realtà ora appunto questo era profondamente vero per quello che era il cinema delle origini utilizzare una cinepresa quando molte delle convenzioni che noi ora diamo per scontate quando vediamo un film non erano ancora stabilite quindi erano molto fragili soprattutto nella psicologia del pubblico che era un pubblico nuovo un pubblico vergine rispetto al grande schermo al montaggio a tutti i linguaggi che si stavano sviluppando per quel che riguardava il cinema chiaramente diventava un elemento di investigazione del reale duplice rispetto alla psiche dello spettatore rispetto alla realtà che riproduceva attraverso la fotografia e diventava molto simile e infatti era anche molto utilizzato dalle avanguardie artistiche diventava molto simile appunto agli strumenti che gli artisti utilizzavano per deformare il reale per diciamo togliere quella patina di diciamo di visione abitudinaria del fatto che noi vediamo col cervello e di fatto non facciamo altro che riconoscere le cose rispetto a quelle che abbiamo già nel cervello l'arte e lo strumento del contemporaneo spezza questa familiarità fasulla che noi abbiamo con il reale improvvisamente ci solleva questo velo e a volte ci capita veramente di vedere qualcosa che non abbiamo mai visto e che quindi e questa cosa ci fa ci porta a porci delle domande su cosa veramente abbiamo di fronte e in quale tipo di realtà di universo siamo immersi quindi volevo cominciare chiedendo ad Andrea appunto il ruolo e anche questa fase storica primordiale del cinema che cosa ha lasciato nel nostro immaginario e che cosa è ancora vivo di questo benissimo grazie allora per questa presentazione sì il rapporto fra il cinema e la scienza nasce subito con l'origine stessa del cinema come è noto il cinema è a origine nel 1895 quando i fratelli Lumière proiettano nel Salon de Boulevard de Capussine a Parigi i primi filmati in bianco e nero però la cinematografia è frutto di vent'anni di studi precedenti al 1895 studi scientifici che volevano appunto tentare di riprodurre il movimento su pellicola e i pionieri del cinema sono scienziati tra questi bisogna mettere Etienne Marais per esempio che era un cardiologo e che cercava di riprodurre il movimento degli animali e in particolare degli uccelli attraverso le fotografie aveva inventato nell'82 un fucile fotografico quindi prima della nascita del cinema un fucile fotografico che riprendeva 12 fotografie al secondo la canna funzionava da mirino e dentro la canna c'era l'obiettivo e poi nell'88 inventa la cronofotografia la capacità di riprodurre su un'unica lastra una serie di posizioni legate al movimento soprattutto degli uccelli e questi suoi studi con questi risultati fotografici hanno influenzato anche lo sviluppo dell'aeronautica la progettazione aeronautica e anche la pittura per esempio Giacomo Balla il dinamismo di un cane al guinzaglio si ispira proprio a queste fotografie che cercavano di riprodurre il movimento fotostatiche naturalmente non dinamiche come succede nel cinematografo poi un altro dei pionieri è Eugène Duayen che era un chirurgo e lui filma le proprie operazioni chirurgiche quando il cinema appunto ormai il cinematografo l'apparecchio è già stato inventato e all'inizio del novecento filma anche la separazione di due gemelli di El Circo Barnum e questi filmati hanno grande successo all'estero un po' meno in Francia perché i medici francesi erano scandalizzati perché ritenevano che queste riprese in qualche modo le dessero la dignità della professione del medico comunque il cinema subito diventa uno strumento di ricerca scientifica perché all'inizio del novecento ci sono filmati che riguardano la fisiologia la medicina la botanica la matematica e diventa uno strumento di ricerca appunto il cinematografo e anche il cinema di finzione il cinema di intrattenimento prende subito spunto dalla scienza si pensi per esempio a Georges Méliès che è in realtà un un prestigiatore un illusionista che nel 1902 quindi 67 anni prima che Armstrong mette la piede sulla Luna invia sei scienziati sul nostro satellite tramite un missile che poi è un proietti e poi dopo di lui il cinema prenderà spunto spesso dalla scienza anche se lo scopo del cinema di intrattenimento è quello di emozionare di sorprendere gli spettatori e quindi privilegia della scienza gli aspetti più spettacolari naturalmente come la conquista dello spazio appunto oppure le conseguenze che la scienza provoca sulla natura nell'uomo e dato che risponde a esigenze commerciali deve in qualche modo soddisfare i gusti del pubblico capita che le scoperte scientifiche siano distorte siano a volte fraintese però ci sono dei registi che invece hanno assunto come consulenti degli scienziati già Fritz Lang alle origini un maestro del cinema degli esordi oppure dopo di lui altri registi come Stanley Kubrick per esempio e poi Zemeckis Spielberg e oggi Christopher Nolan che si è servito della consulenza di un fisico addirittura del premio Nobel Kip Thorne per la realizzazione di un film di fantascienza interstellar e Kip Thorne ha svolto il ruolo di consulente in questo bellissimo film ecco nel nostro libro noi abbiamo cercato di mostrare l'immagine della scienza che emerge da una serie di film di finzione che noi abbiamo preso in considerazione in base ai nostri gusti quelli che insomma ci piacevano di più o perlomeno che ci avevano colpito e non è facile diciamo ricavare una considerazione generale sul modo in cui cinema rappresenta la scienza perché ci sono film in cui si descrivono le conseguenze negative delle scoperte tecniche scientifiche si pensi per esempio a Jurassic Park ma ci sono anche film in cui la scienza salva l'umanità per esempio appunto in Interstellar in generale si può dire che da questi film che abbiamo preso in esame soprattutto quelli di fantascienza risulta che le scoperte tecniche scientifiche di per sé non sono le buone né cattive dipende dall'uso che ne viene fatto e quindi abbiamo tratto la conclusione che anche al cinema bisogna si mette in luce il fatto che il progresso scientifico si deve accompagnare al progresso morale e sociale riguardo poi all'effetto che il cinema produce sugli spettatori questo è l'aspetto più interessante oggi la scienza ci ha spiegato anche perché i film ci coinvolgono riescono a suscitare l'immedesimazione degli spettatori cioè noi sappiamo benissimo che quello che c'è sullo schermo è un'illusione però diciamo sospendiamo l'incredulità ci immedesimiamo perché e questo ce l'ha spiegato un libro di due scienziati appunto Vittorio Gallese e Michele Guerra lo schermo empatico i quali in questo libro hanno fatto notare come giochino in questo caso i neuroni specchio che sono stati scoperti appunto alla fine del secolo scorso sono quei neuroni che entrano in funzione quando noi vediamo delle azioni compiute da delle persone sono gli stessi neuroni che si attivano quando queste azioni le compiamo noi e quindi che ci consentono l'immedesimazione l'empatia e questo succede anche al cinema quando noi vediamo le azioni sullo schermo degli attori ci identifichiamo in loro e quindi ci emozioniamo e quindi il cinema ha un effetto fascinatorio grandissimo e la scienza ormai diciamo ci ha chiarito anche questo mistero questa capacità che questa magia del cinema e ce l'hanno detto due scienziati io poi ora lascerei la parola a voglia ma qua sì volevo deviare le storie in quello che hai detto appunto ha messo in evidenza effettivamente l'enorme complessità che il cinema si porta fin dall'inizio non solo per le sue origini che appunto come dicevi vengono direttamente dalla scienza ma poi perché incomincia a costruire un linguaggio per la narrazione dal niente perché di fatto non esisteva la grammatica a cui noi siamo veramente abituati senza rendersene conto noi riusciamo a leggere una narrazione cinematografica che non ha niente di naturale rispetto allo scorrere del tempo reale e tutta questa complessità che poi appunto in maniera completamente inconscia e diciamo non c'era una profonda padronanza di quello che accadeva nella mente degli spettatori nella testa dei primi registi e quindi veramente le cose accadevano insieme cioè ovvero i film venivano proposti il pubblico reagiva e c'era un dialogo quasi invisibile che avveniva e che aiutava a sviluppare a far crescere questo nuovo linguaggio eppure molti lo percepivano in maniera molto ingenua ed era una cosa che inquietava molti come appunto il cinema mostra la vita e come se riproduceva perché c'era il movimento per la prima volta quindi riproduceva la vita da qualcosa di artificiale che non era vita lì davanti e questo era un qualcosa di un perturbante qualcosa che inquietava sicuramente infatti nella letteratura fantastica uno dei temi perturbanti è proprio quello dell'artificiale che in realtà contiene la vita improvvisamente l'artificiale prende vita ed è l'automa in qualche modo che è un elemento molto presente nella letteratura fantastica dell'ottocento e che porta tutta questa angoscia quindi io a Alberto gli chiedevo l'automa gli automi come arrivano dalla letteratura entrano nel cinema e come ci spaventano ancora adesso buonasera innanzitutto allora oggi siamo abituati a vedere nei film automi replicanti cyborg eccetera ma c'è stato un tempo appunto in cui questo tipo di essere diciamo non era così consolidato insomma le origini dell'automa in quanto robot o robot come si dice o robot perché il termine è russo in realtà perché vuol dire lavoratore operaio e viene appunto dal in realtà l'opera se non erro R.U.R. di Karel Čapek che era cecoslovacco quindi è lui che introduce proprio il termine robot ecco noi lo pronunciamo un po' alla francese ecco però in realtà sarebbe robot in realtà poi il cinema si è servito ben presto di questo di questi esseri artificiali per esempio l'esempio più lampante è Metropolis di Fritz Lang che è del 1927 quindi se vi ricordate è un film assolutamente vabbè che dire ha aperto la strada alla fantascienza per molti versi tra l'altro la sceneggiatura è stata scritta dalla allora moglie di Lang cioè Thea Von Harbu e non a caso il robot è una donna è una sorta di replica l'attrice è la stessa Brigitte Helm se non erro e appunto in questo futuro distopico e questo è un altro grande tema di cui appunto ha già accennato in qualche maniera anche Andrea mi fa cioè un futuro nel quale le cose non vanno proprio bene o come si vorrebbe ora ci siamo praticamente nel futuro distopico quindi lo stiamo perfettamente vivendo il futuro di Metropolis se vi ricordate è questa mega megalopoli divisa fondamentalmente in due i ricchi stanno ai piani alti e i poveracci stanno ai piani bassi questa è una cosa che si ripropone più volte poi se ci pensate in film successivi e il il giovane figlio dell'industriale non così è all'oscuro del fatto che in basso i lavoratori vengano sfruttati ma ci pensa una ragazza Maria della quale lui si innamora fortunatamente a aprirli un po' gli occhi allora lui vede che cosa sta succedendo e come i lavoratori sono sfruttati appunto e e così apre veramente gli occhi per amore e la cosa la cosa bella e brutta è che Maria viene replicata dallo scienziato pazzo di turno Fred no Frederson Rotva esatto e e quindi è esattamente un replicante ma di Maria quindi abbiamo le due facce dello stesso personaggio ma una delle due è malvagia questo discorso del replicante malvagio tra l'altro viene riproposto verrà riproposto più tardi da Philip Dick che io definirei un po' il pirandello della fantascienza perché Dick ha sempre parlato di problemi di identità no cioè con Dick non si sa mai chi è che cosa quindi il buono il cattivo in realtà nel suo romanzo breve Do Androids Dream of Electric Ship e cioè Blade Runner ma in realtà il titolo appunto gli androidi sognano pecore elettriche è un titolo è tutto un programma gli androidi sono tutti cattivi cioè i replicanti come li chiama lui replicanti sono tutti cattivi compresa Rachel che se vi ricordate il film Ridley Scott invece è bella ma anche fondamentalmente buona e ignara del fatto di essere una replicante perché è talmente sofisticata che ovviamente le sono state innestate delle memorie che lei a un certo punto suona il pianoforte dice non so perché stia suonando il pianoforte non mi ricordo di averlo di aver imparato però Rachel ed è bellissimo anche il rapporto naturalmente con Deckard che è il cacciatore di androdi che però si innamora appunto della replicante però il romanzo di Dick appunto ha un andamento diverso perché appunto Rachel è sempre cattiva preferisco di gran lunga direi il film soprattutto nella versione originale quella con la voce fuori campo davvero noir mentre poi Ridley Scott ha fatto la director's cut poi ci sono almeno quattro versioni insomma però la voce fuori campo è di Harrison Ford che narra la storia al passato come si suol fare nei veri noir rimane per me un caposaldo e poi i robot vabbè ne possiamo parlare fino a domani nel senso Asimov naturalmente postula le famose tre leggi della robotica in iRobot per l'appunto e poi ancora e ancora e ancora in varie modalità appunto dove appunto l'automa molto spesso contraviene alle leggi della robotica che vorrebbero che non dovesse mai nuocere all'uomo ma succede invece purtroppo che che diciamo l'automa si ribella per vari motivi e quindi appunto mette in difficoltà e molto spesso anche uccide nel caso per esempio dei replicanti di i Nexus 6 sofisticatissimi replicanti di Blade Runner appunto c'è Roy Betty che è un una macchina da di morte in certo senso perché uccide il suo creatore addirittura è il figlio che uccide il padre nel momento in cui sa per certo di avere i giorni contati però c'è la cosa la cosa bellissima della sua del suo riscatto in qualche modo perché nel momento in cui vede Deckard Harrison Ford che sta cadendo giù da un sta per cadere giù da un un grattacielo lo prende ancora con la forza che gli rimane lo tira su e lo appoggia lì appena prima di morire e poi l'attore Rutger Hauer ovviamente fa quel discorso meraviglioso che pare proprio sia stato lui a scrivere e l'ha proposto a Ridley Scott Ridley Scott che cosa gli doveva dire va bene no? gli ha detto ok e poi muore ovviamente infatti l'ultima cosa che dice è tempo di morire it's time time to die quindi vedete che c'è anche un aspetto molto controverso dell'automa poi replicante chiamatelo come cyborg va bene ricordiamo per esempio in tema di cyborg i Terminator con questa doppia dimensione temporale quindi viaggi nel futuro che è un altro dei grandi temi trattati dai nostri autori sì diciamo finora abbiamo parlato di film dove l'elemento scientifico era riconoscibile grazie alla presenza di tecnologia si fa spesso questo cortocircuito tra scienza e tecnologia che non è certo non esaurisce quella che è la scienza la tecnologia chiaramente dipende fortemente diciamo dalla scienza e spesso si associa appunto quando si parla di narrazione scienza cinema e scienza si pensa istintivamente all'elemento tecnologico che chiaramente mostra che lì dentro si sta anche un elemento della narrazione un elemento fondante in quel caso è proprio la scienza perché la tecnologia è la sua emanazione però una cosa che ho imparato proprio leggendo quello che dice Marco nei suoi libri è proprio che si può parlare di scienza e proprio anche dell'atteggiamento dello scienziato proprio del guardare il mondo con occhi curiosi e con il desiderio di andare oltre di capire e di sovvertire quella che è la visione abituale anche attraverso narrazioni che sono interamente meravigliose ok distingue il meraviglioso dal fantastico proprio perché il meraviglioso è diciamo un'ambientazione in cui in qualche modo si dà per scontato e fa parte della realtà diegetica della narrazione il sopranaturale per esempio o qualcosa che non è all'interno delle conoscenze di quello che ci si aspetta dal reale per come lo percepiamo in un dato momento storico nonostante questo il meraviglioso il racconto meraviglioso può parlare di scienza e per esempio ecco un autore con cui mi aggancio a Marco è proprio un autore che anche questa è una scoperta oltre 40 anni per cui è capitato c'è quello dell'incontro con Miyazaki Miyazaki è un autore che sembra raccontare delle favole completamente oniriche ma è anche un autore che è intriso di scienza di tecnologia e di raccontacelo tu Marco sì va beh intanto come sanno i miei studenti se non hanno visto almeno un film in Miyazaki non possono fare l'esame poi io vi costringo a farvi a vedervi tutti ma naturalmente appunto come ha detto Andrea prima nel libro ci siamo rifatti anche a quelli che sono i nostri gusti inclinazioni personali e dal mio punto di vista la passione comunque per l'animazione giapponese nonostante abbia una formazione classica sia letteraria che cinematografica e anche fumettistica insomma anche quella è molto è molto forte e naturalmente sia per Miyazaki sia per tutti gli autori che noi trattiamo per qualsiasi autore o qualsiasi film che vediamo e qui mi rifaccio a a una delle affermazioni che recentemente ha fatto Christopher Nolan in relazione a Oppenheimer e cioè che molto chiaramente e giustamente ha dichiarato attenzione io comunque con Oppenheimer non ho voluto fare un documentario io ho fatto un film è un'opera artistica ho dato la mia interpretazione del personaggio e volevo che fosse un'interpretazione forte e soprattutto mi sono preso anche la libertà di inventare dei fatti perché li ritenevo più opportuni alla narrazione nonostante poi che lo sia un film voglio dire rispetto alla stragrande maggioranza di film che parlano di storia della scienza un film dove diciamo la documentazione storica ovviamente è molto rilevante e attendibile in questo senso voglio dire che di fronte ai film di Miyazaki la prima cosa è lo stupore è una meraviglia anche se qualcuno ha visto l'ultimo il ragazzo o l'airone insomma vuol dire poi visti al cinema ecco uno resta veramente stasiato di fronte a questa bellezza cromatica scenografica e così via però naturalmente e quindi non si va a vedere un film perché a meno che naturalmente poi arriva Miyazaki ma parliamo sempre di esperienze personali ovviamente è un po' come quando un musicista va a un concerto è difficile astrarsi dal sentire tutte le note che suona il musicista e si ha messo tutte le dita dal punto di vista giusto quindi come storico della scienza la mia visione di Oppenheim è stata un po' la prima sofferta nel senso mi sono portato dietro il bagaglio del fatto che siamo in uno storico della scienza quindi non me lo sono goduto quanto la seconda volta ma questa è un'altra questione cosa voglio dire è che quindi non si va a vedere un film Miyazaki per stare a analizzare quali sono le fonti o qual è la comunicazione che tra l'altro secondo me è il modo migliore di far passare i messaggi della scienza o della tecnica o dell'immagine della scienza per esempio dal punto di vista della comunicazione e della divulgazione io trovo poco produttivo operazioni del tipo la relatività a fumetti in cui si usa i fumettini per spiegare la relatività non c'ha nessun senso preferisco una bella storia di Topolino dove improvvisamente entra dentro il tema della relatività senza che però il lettore diciamo sia concentrato sull'aspetto tecnico-scientifico e però l'assolve quindi noi della nostra generazione abbiamo imparato molte più cose scientifiche da Topolino che non dai libri di scuola questo lo sto dicendo seriamente Miyazaki conta moltissimo intanto la biografia del personaggio cioè dobbiamo ricordarci che diciamo se non ricordo male Miyazaki è del 41 quindi è un giovane che ha fatto parte di una famiglia il cui padre era il proprietario appunto di una fabbrica di aerei componentistica degli aerei zero e quindi Miyazaki il tema del volo è sempre declinato in maniera duplice il volo come meraviglia come creazione come capacità dell'uomo di innalzarsi verso vette sempre più alte la libertà e però c'è l'aereo la guerra che sono sempre strumenti che sono diciamo che sono immagini sempre presenti nei suoi film e poi c'è l'esperienza di giovane che vive l'occupazione americana quindi molto Miyazaki sappiamo molto impegnato sui temi della pace l'ambientalismo e poi naturalmente come giapponese il tema nucleare l'atomica ecco tutti questi temi sono fortemente e ben rappresentati nei film però non in maniera didattica didascarica cioè entrano nella rappresentazione scivolano in maniera quasi inconsapevole però se e quindi da questo punto di vista i film come ci ha appunto anche insegnato Andrea nei suoi libri su cinema e filosofia per esempio sono un ottimo strumento anche per insegnare filosofia o fare passare concetti temi di questo tipo ora per esempio qui non vi sto a chiedere tutta la filmografia di Miyazaki non mi metto a fare il professore però insomma ricordiamoci che il primo film tra l'altro è il castello di Cagliostro quindi perché Miyazaki ha iniziato facendo i cartoni di lupo in terzo e anche altre cose del genere comunque prendiamo il primissimo diciamo originale cioè Nausicaa della Valle del Vento e lì ci sono tutti i temi fondamentali della sua opera perché c'è il tema di un'umanità che si capisce essere reduce da una catastrofe tecnologica di qualche tipo probabilmente nucleare o comunque che ha riportato l'umanità indietro nel tempo c'è la foresta tossica la foresta tossica è questo ambiente in cui appunto contaminato dalle radiazioni e da tutto quello che è stato provocato dalla catastrofe tra l'altro noi sappiamo che per la foresta tossica e Nausicaa della Valle del Vento Miyazaki si è ispirato a un episodio di cronaca vera del Giappone cioè l'episodio della baia di Minamata di cui tra l'altro ho fatto un film di recenza su questo caso di questa industria che ha sversato per decenni mercurio nelle acque e quindi c'è questo tema qua poi c'è il tema della tecnica del volo perché appunto ci sono sempre questi strumenti anche molto fantastici Miyazaki fa parte di quei maestri dello steampunk questo genere e anche in questo caso si vede nel film come le macchine le macchine possono essere strumento che aiutano l'uomo oppure possono essere strumenti di distruzione di morte e così via in relazione al tema del volo questo lo si vede in tutti i film Miyazaki penso quello diciamo Porco Rosso è quello più dove anche lui molto amante dell'Italia tra l'altro è esperto di aviazione anche nel Castello Errante di Hull ci sono tutti i riferimenti a lo Spaventa Passeri lo Spaventa Passeri del Castello Errante di Hull è ripreso dal simbolo di una squadriglia aerea italiana quindi ci sono anche tutti questi giochi di fonti citazioni che i registi i grandissimi registi amano da Kubrick a Miyazaki a Nolan cioè citare nel citare dentro il film o si alza il vento si alza il vento è proprio quasi autobiografico perché c'è l'autore di apparecchi aerei quindi ci sono queste bellissime citazioni relative al fatto che l'aereo può essere strumento di libertà o strumento di morte in questo senso si ritorna a quello che diceva un po' Andrea inizialmente ora poi mi fermo perché se inizio a parlare i miei azzati non finisco più ma in questo senso siccome Alberto giustamente con Alberto Andrea con Paolo ovviamente ci vediamo spesso ci confrontiamo molto su su quelli sono i nostri film preferiti a volte facciamo le discussioni per mettere uno al primo o secondo posto e cose di questo genere però Blade Runner ovviamente è sempre stato diciamo fin da quando l'ho visto diciamo una specie di rivelazione ricordo l'ho visto in prima visione a forte bel vedere all'aperto cinema all'aperto quindi quando appare questa Los Angeles del futuro mentre stava scavando la penombra insomma sono cose che restano dentro avevo vent'anni quindi ecco però questo sia nel romanzo che nel film quando Deckard incontra Rachel lei gli fa sembra lei non abbia molta fiducia nei nostri prodotti nelle nostre nelle nostre invenzioni e lui gli risponde come io sostengo in maniera tipicamente baconiana perché diciamo dal mio punto di vista l'aspetto filosofico che emerge da questa ricerca su cinema e scienza è che quando si parla di una scienza che non è positiva né negativa ma dipende dagli usi che l'uomo ne fa è la trosposizione diciamo di quella che era l'idea della filosofia di Francis Bacon filosofo dei 600 e quindi anche Deckard gli risponde in maniera baconiana cioè dice ma guarda per me i replicanti non sono né buoni né cattivi dipende dall'uso che la società ne fa io però mi occupo della parte cattiva perché io faccio il cacciatore di androidi e quindi però ecco questi aspetti sono interessanti perché in determinati film emerge questo aspetto anche nei grandi classici insomma come vedo lì il mio amico Gianfranco poi vi ripasso la parola però non posso non citare quando ci trovavamo a fare i pendolari sul treno con Gianfranco sulla Firenze Bologna ci divertivamo a fare il giochino ma quali sono le battute più belle della storia del cinema e allora vi dico qual è la mia cioè diciamo in realtà sarebbe anche quella di Blade Runner però secondo me quando in Jurassic Park va via la corrente elettrica perché c'è la tempesta e le macchine stanno passando davanti al recinto del tirannosauro si fermano Jeff Goldberg il fisico che aveva spiegato la teoria del caos attenzione questo parco vi può sfuggire di mano perché la teoria del caos eccetera e a un certo punto inizia a sentire boom boom cioè capisce che il tirannosauro è scappato dal recinto e si sta avvicinando boom 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 è in macchina per i bambini e pronuncia la fatidica frase quanto mi secca avere sempre ragione che secondo me è una delle battute più belle della storia del cinema che io ogni tanto riutilizzo insomma e anche questo fa parte però del rapporto scienza e tecnica ecco sì io mi volevo ricollegare proprio a quello che ha detto Marco sul fatto che il cinema riesce davvero a fare un buon servizio alla scienza quando non è didascalico e nel nostro libro noi abbiamo messo in luce un aspetto cioè a nostro parere il terreno in cui è più proficuo l'incontro fra il cinema e la scienza è quello degli esperimenti mentali esperimenti mentali sono diffusi nella scienza come sono diffusi nella filosofia che sono quegli esperimenti che gli scienziati non possono effettuare per ragioni tecniche perché non hanno la tecnologia adeguata e allora immaginano con la fantasia per verificare per lo meno sul piano dell'immaginazione le conseguenze delle loro ipotesi più ardite per esempio Galileo Galilei in un'epoca in cui non c'è ancora la possibilità di riprodurre il vuoto nel laboratorio immagina corpi che cadono nel vuoto oppure Einstein immagina corpi che si muovono alla velocità o vicino alla velocità della luce ecco il cinema riesce a farci vedere non solo con l'occhio della mente come dice Galileo ma proprio con l'occhio fisico con l'occhio della testa degli esperimenti mentali che gli scienziati e i filosofi possono soltanto fantasticare mi riferisco per esempio ai film di fantascienza che molto spesso soprattutto quando trattano dei viaggi nel tempo ci fanno visualizzare il famoso esperimento mentale dei gemelli che è legato alla teoria dell'attività ristretta come è noto secondo Einstein via via ci si avvicina alla velocità della luce il tempo rallenta si dilata e per chiarire questo fenomeno così straordinario Paul Langevin e poi Hermann Weill hanno escogitato questo paradosso questo esperimento mentale dei gemelli si immagina che di due gemelli uno parta per un viaggio su un missile che si muove a una velocità vicina a quella della luce mentre l'altro gemello rimane a terra quando il secondo gemello ritorna sul pianeta terra troverà il fratello più vecchio di lui è stato calcolato in base alle equazioni di Einstein che se il gemello viaggia a una velocità pari a 4 quinti la velocità della luce il suo viaggio dura un terzo o meno dell'attesa del fratello che si trova sulla terra per cui dopo un viaggio di 15 anni il gemello ritrova suo fratello più vecchio di lui di 5 anni e quindi il gemello ha viaggiato 5 anni nel futuro il viaggio nel futuro è teoricamente e fisicamente possibile anche se naturalmente noi non abbiamo i mezzi tecnologici ingegneristici ecco il cinema di fantascienza ci fa visualizzare l'esperimento dei gemelli molti film si pensi al finale con un gran colpo di scena del pianeta delle scimmie di Franklin Scheffner oppure a incontri ravvicinati del terzo tipo che è uno dei film preferiti da Marco e anche a me piace moltissimo in questo film si immagina che degli alieni durante la seconda guerra mondiale rapiscano dei piloti dell'aeronautica americana e poi li rilasciano durante un incontro ravvicinato del terzo tipo con i terrestri 40 anni dopo 40 anni di tempo terrestre e quando si verifica questo incontro ravvicinato escono i piloti dall'astronave aliena e sono sempre giovani sono sempre giovani tanto è vero che uno dei tecnici presenti dice non sono invecchiati Einstein aveva ragione questa è un'altra delle battute memorabili del cinema di fantascienza perché l'altro gli dice Einstein probabilmente era uno di loro ecco quindi insomma il cinema ci fa vedere concretamente questo paradosso che noi possiamo soltanto immaginare e questa è una delle caratteristiche straordinarie del cinema che ci appassiona senza essere didascalico io credo che poter visualizzare questi esperimenti mentali meraviglia e quindi spinge lo spettatore a interessarsi a verificare andare a leggere ma sarà veramente possibile viaggiare nel futuro e quindi ha una grande funzione pedagogica senza essere didascalico però senza quando non è didascalico quando meraviglia ci costringe a guardare con gli occhi spalancati meravigliati questi fenomeni che diciamo lo scienziato immagina o il filosofo perché se si pensa anche che ne so il mito della caverna di Platone è un esperimento mentale che si può visualizzare al cinema per esempio in The Truman Show oppure in Matrix oppure che ne so Achille la tartaruga è un altro esperimento mentale ecco il cinema ci fa vedere questi esperimenti mentali con l'occhio fisico e questo mi pare è un merito insomma notevolissimo la scienza di fatto è la definizione una delle possibili definizioni di scienza è quello di appunto poter fare esperienza di uno spazio ma anche di una condizione di cui non si ha un'esperienza quotidiana diretta noi adesso siamo capaci tutti di immaginare la regia mi faceva segno ma continuo a non capire ho girato il compito riusciamo a immaginarci lo spazio interplanetario lo spazio tra le galassie tutti luoghi o condizioni fisiche che sono completamente lontani dalla nostra esperienza di vita eppure la scienza ci permette di fare questo il cinema è uno strumento che ci trasporta in questa dimensione che è la dimensione dello scienziato cioè attraverso un processo che può essere un ragionamento ma può essere anche una visione un ascoltamento una narrazione immaginiamo ci caliamo e riusciamo a descrivere qualcosa di cui non abbiamo mai possibilità di avere esperienza diretta e questo è veramente siamo veramente alla radice della scienza dell'esperienza scientifica adesso cosa facciamo facciamo lasciamo un po' di esatto ecco questo dicevo cioè passiamo ai ok allora qui dalla dalla rete ci domandano splendide citazioni dicono non dimentichiamo anche il grande moonfall il film che è ispirato l'interstellar ormai ve le passo tutte qua dopo le commentate voi e un'altra citazione su The Martian uno splendido film molto angosciante ma dicono non ci dimentichiamo di Guerre Stellarie un esempio di un racconto fantastico con un'ambientazione fantascientifica e vabbè niente poi quest'ultimo c'era qualcosa che non era ho visto apparire ora ma in effetti diciamo era rimasto indietro non si può dire noi rispondiamo a tutto anche sì prego prego no 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 ma queste sono più osservazioni no sono commenti io li ho stimolati per per darvi degli spunti su come no no certo certo appunto uno dei nostri obiettivi era quello di di non di non fare l'enciclopedia dei film su scienza e cinema perché si è diventato un catalogo quindi abbiamo scelto dei film sono sono nuovi percorsi nove percorsi dove all'interno in genere ci sono trattati tre quattro film a volte ci sono maggiori cadrellate in categorie che appunto cioè faccio per dire nel primo capitolo è dedicato alle biografie degli scienziati noi abbiamo preso in esame due film storici dedicati a Galileo Galilei poi una serie di film su Marie Curie e tra l'altro il bellissimo film di John Huston che è ispirato la prima parte della vita di Freud dove forse tutti non sanno che la sceneggiatura originaria di questo film se ne ricordo male è del 62 comunque adesso non mi ricordo esattamente ma la sceneggiatura originaria è di Jean Paul Sartre e e quindi c'è c'è tutto un dialogo fra Huston Sartre insomma lì abbiamo cercato un po' di ricostruire la storia ecco quello secondo me è un caso di un ottimo film cioè un film che comunque è bello avvincente un bianco e nero stile espressionista e così via dove però per esempio Sartre poi non comparirà nei crediti perché lui aveva se non ricordo male proposto una prima cioè diciamo una sceneggiatura molto corposa e di fronte a richieste di cambiamento ne aveva prodotta una ancora più lunga e insomma diciamo non si sono poi accordati però molte delle cose aveva messo nella sceneggiatura come idee poi vengono fuori ma alla fine lo stesso Huston si è alimentato del fatto che la produzione ha infitto dei tagli al film che secondo lui lo hanno reso sì sempre una vincente dei tre di storie ma la sua intenzione era di far vedere proprio i passaggi logici e anche meditati da parte di Freud mentre il film lui dice lo stesso Huston diventa una serie di illuminazioni geniali e questo è un aspetto interessante se non è da tenere presente perché al di là di tutto l'abbiamo detto in linea di massima nel cinema passa un'immagine della scienza che non è quella reale cioè è descrivere è difficile descrivere in un film la comunità scientifica al lavoro che con pazienza e tempo il film ha bisogno di altri modelli e così anche anche nei film migliori comunque a volte non si sfugge dallo scienziato diciamo che c'ha sempre il colpo di genio l'immuniazione insomma si accade ma quando dico sempre io insomma va bene Einstein è stato un genio ma insomma gli c'è voluto anche lui il suo tempo per costruire sia la relatività speciale che quello ancora più generale quindi questo è un aspetto che va tenuto presente poi è ovvio che quindi ci sono i nostri gusti e le nostre da questo punto di vista come dicevi tu il film può diventare uno strumento didattico nel senso che io posso far vedere i film su Marie Curie che magari a qualcuno piacciono ad altri no e mettere in evidenza quanti errori storici ci siano in quei film e che non vuol dire che il film non sia bello quindi perciò dipende anche molto dalla consapevolezza dello spettatore che sa cosa cosa va a vedere poi e finisco cioè è ovvio seguiamoci vogliamo parlare di guerre stellari io sto qua tutta la notte io mi vanto di essere uno di coloro che ha visto tutti gli Star Wars al cinema e quindi ho questo privilegio però però ecco prendiamo Star Wars io insomma se mi divessi rifinire ai canodi della della science fiction tradizionale lo definirei forse una space opera diciamo comunque insomma diciamo gli aspetti scientifici fantasy no 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 punto però è utile per riflettere tutto questo poi io e Alberto ovviamente siamo diciamo noi siamo amanti anche dei cult oltre Star Wars quindi anche balle spaziali per noi è di fatto migliore di Star Wars migliore e quindi tra l'altro no no quindi sono tutti anche The Martian se non so se vuoi dire o se vuoi No The Martian magari ne parla Andrea dopo è un film molto interessante peraltro no quello che volevo dire invece intanto che le migliori battute di Star Wars sono chiaramente quelle di Chewbacca se vi ricordate quella formidabile che fa recita che è bellissima veramente ecco credo veramente avete capito tutti ovviamente quindi già quello lo qualifica io non sono un amante di Star Wars lo dico vabbè ora poi che c'è vabbè in Dune ha recitato Timothée Chalamet ancora meno mi piace la fantascienza e la space opera ma invece torno indietro perché volevo menzionare un film che per vari molti versi anzi mi sta a cuore ma non credo solo a me e che è Forbidden Planet cioè Il pianeta proibito intanto è è una sorta di rivisitazione fantascientifica della tempesta di Shakespeare no? è un film del 1956 ed è il primo film di fantascienza ad alto budget perché prima a colori in Technicolor perché prima che io mi ricordi c'era stato Ultimatum alla Terra nel 51 ma era in bianco e nero è un film straordinario ancora oggi per molti versi perché ha delle tematiche di grande attualità se vi ricordate c'è questo scienziato Morbius Morbius già il nome dice morbid in inglese vuol dire morboso quindi si doveva capire sin dall'inizio che ha una bellissima figlia che non ho mai capito se si chiami Altaira o Alta nessuno di noi l'ha capito perché ogni tanto la chiama Alta vabbè comunque Anne Francis che la sua figura faceva e questo Morbius è un personaggio inquietante perché è un uomo intelligentissimo uno scienziato che si è ritrovato su questo pianeta proibito perché proibito perché ha acquisito di fatto la tecnologia di una così una razza aliena che si è estinta erano i Krell di forma non si sa bene quale ma le porte sono triangolari quindi voleva dire che non erano insomma esattamente come noi ecco e quando mi ricordo quando quando Morbius porta il comandante del disco volante perché di fatto è un disco volante che è Leslie Nielsen qualcuno se lo ricorderà diversi anni dopo nella pallottola spuntata insomma un attore che ha fatto una carriera variegata e lo porta a vedere sono su una sorta di piattaforma e gli indica 1500 piani 1500 piani cioè di macchine di macchine ipertecnologia crelliana ma la vera cosa straordinaria di questo film e anche per questo mi sta a cuore è realizzata dalla Disney il film è della MGM no? della Metro Goldwyn Mayer ma i trucchi gli effetti speciali sono della Disney e gli effetti speciali consistono nel visualizzare il mostro del lead che cos'è il mostro del lead? è un mostro generato dalla mente iperattiva dello scienziato che si è che ha attinto alla scienza dei crell i quali a loro volta erano stati distrutti da questi mostri della mente che però diventano qualcosa di tangibile e appunto distruggono loro stessi un po' tutto quello che hanno intorno e Morbius a un certo punto non riesce a impedire no? che il mostro del lead da lui stesso generato sfondi praticamente le pareti quasi invalicabili no? della sua casa ipertecnologica quindi sono molte tematiche e in ultimo c'è anche per tornare a quello che si diceva prima il robot perché forse Robby the Robot è stato uno dei robot più famosi io mi ricordo quando ero bambino ce l'ho ancora un simi Robby Robot ma in America c'è proprio il robottino con tutti i giroscopi e quello che ci aveva che fu prodotto in quell'occasione nel 56 è appunto in come merchandising diciamo annesso al film però insomma è un grande film ma soprattutto per le appunto le tematiche cioè i pericoli della anche del sapere del troppo sapere anche in questo caso ritorna il tema no? della ambivalenza della tecnologia che da una parte sfugge al controllo dell'uomo e crea appunto addirittura l'annientamento di una civiltà ma c'è anche i robot visto in maniera positiva perché è di aiuto e di servizio sì dicevo è vero che non è vostra intenzione fare un elenco enciclopedico dei film di fantascienza ma c'è un film che secondo me è il più bel film di fantascienza mai esistito che viene citato pochissimo è Contact con Judy Foster non mi ricordo regista però Robert Zemeckis con Judy Foster e Matthew McConaughey ecco no no va bene però dico a parte citato nel libro ma questo questo film è tratto realmente tratto già aveva degli scienziati come consulenti anch'io sono anzi ero un astrofisico sono in pensione da un pochi anni e fra l'altro mi chiamo Gian Paolo Tozzi e non siamo parenti e per un certo periodo ho avuto contatto con gente del SETI Search for Estraserrestrial Intelligence e la persona cieca che c'è nel film esiste davvero e ho parlato con questa gente erano dei consulenti del film inoltre il film è tratto da un romanzo di Carl Sagan che secondo me è eccezionale quel romanzo anche perché non finisce come finisce il film ma finisce dicendo che c'è un messaggio nelle cifre del Pi Greco e questo secondo me è geniale Sì di questo film ci siamo occupati in un capitolo del nostro libro e abbiamo scritto appunto che uno dei consulenti è stato Kip Thorne Kip Thorne all'epoca fu diciamo proposto come consulente in un primo momento il regista voleva utilizzare per il collegamento con l'altra galassia in cui ci sono gli alieni un black hole mentre Kip Thorne gli disse di usare un wormhole cioè un buco di verme che sono teoricamente possibili anche se per quanto mi risulta ancora nessuno l'ha mai trovato comunque nel film si ipotizza che una civiltà aliena sarebbe riuscita a aprire questo wormhole e mette in comunicazione punti distanti dell'universo ecco il consulente è stato proprio il futuro premio Nobel del 2017 Kip Thorne che poi è tornato a fare il consulente per Interstellar e ha scritto un libro proprio su questa consulenza in cui parla anche di contact ha scritto un libro intitolato Viaggiare nello spazio-tempo la scienza di Interstellar in cui lui ha spiegato come deve essere il rapporto fra uno scienziato e un regista e che è poi il rapporto fra lui e Christopher Nolan cioè il regista può ispirarsi alla scienza può anche fare congetture che comunque non devono essere in contrasto con la scienza e questa è la linea che ha seguito Christopher Nolan e fra l'altro Interstellar visto che è stato citato anche nella domanda che ci è arrivata dunque concludo rapidamente ha consentito proprio a Kip Thorne di visualizzare un wormhole che lui aveva potuto soltanto immaginare non avrebbe potuto realizzarlo con gli effetti speciali non avrebbe avuto i fondi invece il film gli ha consentito di vedere come appunto potrebbe essere un wormhole all'ingresso una sfera luccicante nel film e poi anche un black hole un black hole ruotante in cui c'è un disco da crescimento in cui c'è la materia che ruota quindi il film è molto interessante anche da questo punto di vista visivo perché è un modo per visualizzare delle entità che gli scienziati hanno potuto soltanto immaginare e quindi è un documento importante comunque siamo d'accordo con lei che Contact è il tuo film top almeno per me insomma ecco assolutamente quindi molto breve Solaris di Tarkovsky merita qualche commento o no? a me è piaciuto molto questo film storicamente Solaris è la risposta russa di 2001 di Siamo allo spazio così veniva reclamizzato all'epoca quando uscì nelle sale italiane dopo 2001 di Tarkovsky è un film importante dal punto di vista psicologico perché mette in luce la solitudine degli astronauti il fatto che diciamo le visioni che potrebbero nascere dalla mente degli astronauti che soffrono la solitudine lontani dalla terra direi che un film di fantascienza psicologica particolarmente riuscito molto più bello del remake che è stato fatto recentemente con ce lo vedi George Clooney nello spazio non so sì appunto anche lì non è è è è è no allora il discorso è un po' quello che si diceva prima no allora per esempio Solaris non 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 ma per motivi appunto contingenti di non poter fare però diciamo se il libro va bene noi facciamo incontri avvicinati i due la vendetta no quindi però a me personalmente il Solari di Tarkovsky io ho sempre amato tantissimo eh per una serie di motivi anche se è noto che Lem Stanislas Lem non non ha amato le riduzioni cinematografiche insomma quindi anche questo è un altro problema certo c'è una rappresentazione appunto dell'intelligenza aliena che è completamente diversa rispetto a quelle tradizionali dei film di fantascienza degli anni 50 dove sono creature mostri ecco il pianeta proibito per esempio è interessante anche perché questi alieni non si fanno vedere no mentre si però diciamo restano nell'immaginario di una situazione in cui invece l'ordinario era far vedere il classico esatto no forma di insetto eh no sono abbastanza mostruosi però Solaris ancora ancora di più no quindi c'è anche l'evoluzione dell'immagine dell'alieno nella che è anche un modo di raccontare però il nostro rapporto diverso no quindi in realtà anche Frank sta in un film su alieni e diversità da un certo punto di vista e tutto rientra no in questa tematica sì e visto che parlando di diversi ovviamente bisognerebbe parlare di Freaks di Todd Browning ma questo è un altro discorso no io avevo soltanto un commento già che c'è il microfono in mano che riguarda giusto appunto il disco da crescimento e tutta quanta la questione del buco nero di Interstellar che guarda caso è molto simile al buco nero di M87 e al buco nero che c'è nella nostra galassia come sono stati effettivamente osservati da EHT quindi no voglio dire Kip Thorne aveva aveva delle idee ha delle idee sì diciamo allora il allora è bello che questo qua simila tutto una una un discorso molto interessante su cos'è un'immagine no il l'immagine del buco nero se ti ricordi Ruggero a un certo punto quando è uscita c'è stata una polemica dicendo non è un'immagine in realtà lo era perché è come dire io appunto volessi un articolo che andava contro questa cosa perché in realtà diciamo è una ricostruzione no perché in realtà quello cosa succede è è un segnale che viene ricostruito attraverso facendo interferenza con il segnale radio un'interferenza diciamo e c'è una degenerazione c'è una libertà nel fare queste ricostruzioni che in qualche modo uno dice uno è guidato anche dai modelli che ha in testa e quindi quell'immagine quella ciambellina arancione alla fine che aveva pochi dettagli anche se quei pochi erano molto significativi dal punto di vista scientifico perché appunto rappresentavano la zona più luminosa si vedeva appunto la distorsione dell'immagine del disco proprio dovuta al fatto che lo spazio-tempo era proprio molto curvato dalla massa del buco nero e appunto in realtà diciamo no si era costruita questa meraviglia intorno a questa immagine che era un'immagine molto molto semplice ed era anche un po' appunto c'era anche questo 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 dubbio in realtà appunto la l'immagine invece teorica che si vede nel nel film su cui poi tra l'altro diciamo sono state fatte come già è stato detto proprio delle pubblicazioni scientifiche grazie al lavoro di imaging usato nel film ovvero appunto grazie ai potenti mezzi di Hollywood l'aver reso l'immagine nel disco di accrescimento visto diciamo volando no planando sopra il disco quindi tutta vedendo tutta la distorsione è una resa molto complessa perché significava appunto di risolvere essenzialmente l'equazione di Einstein in un campo profondamente no spazio-tempo molto curvato e ha portato a delle pubblicazioni scientifiche quindi il film ha portato a fare pubblicazioni scientifiche no quindi questa cosa si è un po' invertito quello che è un po' il processo quindi quello che dici te no può far pensare che il lavoro di Kip Thorne abbia effettivamente sia quello scientifico che poi abbiamo visto in salsa cinematografica abbia influenzato anche poi non solo il lavoro di osservazione ma anche poi il risultato e il modo in cui il risultato è stato presentato alla comunità scientifica e come sempre e in questo caso il cinema ci aiuta a mettere in evidenza c'è una dialettica complessissima tra come noi diciamo cerchiamo di raccogliere le informazioni in maniera oggettiva sul reale e come poi ce le rappresentiamo e c'è sempre un elemento narrativo la scienza non può fare a meno della narrazione e quindi la narrazione ci aiuta anche a capire come la scienza funziona questa immagine del buco nero effettivamente è un esempio molto bello molto complesso di questo aspetto qui si orate c'è una versione complessa perché c'è la storia che riguarda la fantascienza riguarda la cinema e scienza fantascienza science fiction c'è una versione complessa perché molte volte succede involontariamente che si parla di un film nella misura in cui ha anticipato qualcosa che è successo la fantascienza si tende a dire si cita sempre Asimov e spesso viene fuori è interessante nella misura in cui ha previsto questo è un aspetto molto limitativo perché anche la questione che attiene quanto realtà prevediamo è altro Solaris non a caso Tarkovsky fa un discorso morale fa un dramma morale c'è il problema fra scienza e morale non a caso l'immagine finale il pianeta rende l'immagine del padre ora chi conosce Tarkovsky ora qui non è il caso ma c'è forte questa questione della memoria degli affetti nostalgia eccetera mentre Cluney fa una rivisitazione più che altro di un altro tipo il romanzo è stato detto non da me è stato invece un dramma il romanzo gnoseologico c'è un problema della conoscenza dove arriviamo con la conoscenza qual è la sfida che ci pone Solaris come proprio questioni di capacità di conoscere e di capire perché detto questo ad esempio è stato detto giustamente Buonero è complesso la fantascienza in fondo non ha solo lo scopo di prevedere ma di far riflettere non a caso sono usciti ben due libri di filosofi tre o quattro anni fa uno di Mimesi su un altro ancora sul rapporto fra filosofia e fantascienza perché la prima cosa è riflettere riflettere su come si porrà l'uomo su come ci poniamo nei confronti dell'intelligenza universale sono esperimenti mentali che ci permettono di capire qualcosa di più di noi stessi di come ci prepariamo poi la previsione certo che è importante ma è solo uno degli aspetti non banale ma è uno quindi il fatto che il film sia importante nella misura in cui ci rende o ci fa prevedere va bene fino a un certo punto come ha fatto l'operazione Roland su Oppenheim dove per esempio Fermi non ne parla ma non era quello lo scopo insomma lui voleva fare altre cose io personalmente sono un medico ci sarebbe buttare la storia del cinema e medicina che si apre un mondo mi occupo un po' di quello quindi intendo dire la bellezza sta proprio in questa complessità del modo in cui i registi rendono a volte sì c'è l'elemento di previsione che è affascinante ci piace ma più di tutti ci piace che so l'immaginazione come fa Miyazaki quando poi vola o altre cose perché è comunque una riflessione sia una riflessione morale una riflessione che so io sulla nostra sulla nostra psicologia e la questione delle previsioni ovviamente Ballar con le catastrofi per dire chi conosce un pochino e lì ci dava più di quello che potevamo pensare noi chi si ricorda 2022 sopravvissuti che due anni fa era interessantissimo perché quando lo si vedeva era un film di un romanzo del 66 fatto nell'82 parlava del 2022 anche quello ci sta andando a palla e lì era meglio se non ci si andava ma insomma quindi intendo dire avete sono questioni complesse molto belle a mio parere che rendono conto di una complessità nel raccontare nel vedere ci sono tanti aspetti di cui l'oggettività è solo uno e non necessariamente forse anche quello più importante sì sì era solo per dire siamo d'accordo ecco perché diciamo anche nel libro l'idea era proprio di far emergere questo tipo di complessità il tema della previsione è venuto da fuori nella chiacchierata ma questo vale per la fantascienza in generale cioè Asimov o Clark stesso hanno sempre dichiarato che il futuro non è prevedibile quindi e lo diciamo noi come scrittori di fantascienza poi aggiungono se poi qualcuno per caso potrà perdere un po' di futuro quelli saranno gli scrittori di fantascienza insomma però questo è un altro discorso però giustamente ecco siamo d'accordo con quello che diceva lei sì io volevo dire un'ultima cosa su Interstellar proprio per mettere in luce come Nolan è riuscito a mescolare scienza e psicologia perché nel film non bisogna dimenticare il buco nero sì è interessante ma più che altro per gli effetti che produce perché quando i piloti sbarcano sul pianeta d'acqua vicino al black hole lì a causa del black hole il tempo rallenta rispetto alla terra c'è un rallentamento del tempo dovuto alla gravità e in seguito a un'onda gigantesca perché questo pianeta è un pianeta d'acqua l'astronauta Cooper parte con tre ore di ritardo da questo pianeta e sulla terra sono passati 23 anni poi si avvicina il buco nero e la sfasatura temporale aumenterà ancora di più perché quando Cooper ritornerà indietro soverrà sua figlia più vecchia di lui ecco questo l'aspetto veramente straordinario e psicologicamente commovente del film perché il padre trova la figlia in punto di morte perché sono passati più di 50 anni sulla terra mentre per lui sono passati pochi anni e quindi c'è questa combinazione fra un fatto fisico cioè è vero c'è un rallentamento del tempo dovuto alla gravità in prossimità di un buco nero che eserce una fortissima fortissimo potenziale gravitazionale però questo produce un effetto psicologico fatto che il padre troverà la figlia più vecchia di lui e in punto di morte addirittura nel finale del film questo è un aspetto veramente fantastico straordinario questo è l'aspetto più bello forse di Interstellar il rapporto padre figlio ora se posso fare un commento partono dalla terra con il classico missilone Saturn a più stadi atterrano sul pianeta d'acqua con una navicellina che sembra quella di Star Wars e poi ripartono da lì vicino a un buco nero con la benzina fanno la fiammata poi la figliola gli invecchia ma la fidanzata no perché poi alla fine lui va a ritrovare la fidanzata e quale peccaso è rimasta giovane lasciamo perdere vi faccio allora domande dalla rete poi ce ne abbiamo anche un'altra qui e poi dopo quale tra i film di fantascienza che avete citato o che non avete citato è secondo voi il più verosimile aspettate ricollegandomi a questa ultima osservazione io ho l'impressione che la maggior parte dei film di fantascienza non si è affatto scientificamente divulgativa anzi molto spesso promuovono idee che sono antiscientifiche scientifiche o peggio ancora finiscono per alimentare nicchie perfino complottiste questo effettivamente è un tema interessante mi sembra sì è un tema interessante ora diciamo rispondere in breve non è non è semplice e insomma rispondo io per primo visto che è una cosa di cui mi occupo tutti i giorni rapporto scienza prodoscienza io eviterei di fare l'associazione siccome ha visto venerdì 13 poi ha fatto la strage cioè questa cioè non non ci sono dati in proposito in base ai quali se uno vede il signore degli anelli poi allora diventa un cultore di magia ecco proprio perché c'è la sospensione dell'inturità ci sono ci sono tanti fattori cioè non non ci sono dati o prove che dimostrino che c'è una correlazione tra la visione di un film e poi lo sviluppo di idee pseudo-scientifiche anzi io sostengo esattamente il contrario da questo punto di vista perché appunto dipende molto da appunto fattori che riguardano la percezione della di come uno si pone di fronte a un film comunque è un discorso lungo e complesso ora sono costretto a dire diciamo secondo me non c'è però sono disponibile con tutti anche chi ci ascolta a casa se ci vogliono scrivere o mandare mail da questo punto di vista oppure vengono a lezione perché visto che i corsi sono sempre su su questi argomenti allora poi bisogna intendersi allora per esempio secondo me quando io propongo la famosa triade 2001 di Sene dello Spazio incontri avvicinati del terzo tipo e Contact proprio per vedere i vari modi anche di affrontare certe tematiche per esempio 2001 di Sene dello Spazio film straordinario però diciamo una base forte dei film è altamente pseudo-scientifica perché gli alieni che vengono nel passato e modificano il corso dell'umanità quello è il famoso tema degli antichi astronauti quelle cose lì quindi io consiglio sempre Contact come uno dei film più attinenti a un discorso di tipo scientifico e anche con impostazione scientifica però bisogna intendersi su cosa è fantascienza o no che tipo per esempio nel nostro libro c'è tutto un capitolo dedicato ai rapporti tra scienza e pseudo-scienza e allora per essere sintetico io ovviamente adoro tutti i film di Indiana Jones anche anche gli divenuti peggio nessuno nessuno mi deve toccare Indiana Jones va bene? si nervosisce poi diventa no è una cosa brutta cioè evitate però Indiana Jones intanto cos'è film fantarcheologia avventurosa cioè diciamo Indiana Jones è una enciclopedia delle pseudo-scienze perché lì vengono trattati tutta una serie di misteri archeologici che riempiono le pagine dei libri di pseudo-scienza tranne il tema del nazismo magico che è realmente esistito quindi è sempre abbastanza complicato insomma è ovvio che queste sono domande molto interessanti a cui dobbiamo dare delle risposte molto brevi e sintetiche sì certo sì io voglio solo citare alcuni esempi di film o insomma di opere che hanno trasmesso un aspetto della scienza che forse non mi sembra di aver visto citato e forse l'avete analizzato nel libro che è quello della scoperta o in generale della spiegazione cioè trasmettere quella sensazione quel momento diciamo eureka in cui molti pezzi diciamo scomposti vengono composti appunto in un disegno organico che semplice e quindi una cosa semplice che ne spiega tante complicate è un momento particolarmente esaltante della vita dei licenziati e per esempio un esempio che può sembrare banale ma insomma è un'opera diciamo fatta per i bambini soprattutto che Chiricù è la strega Carabà non so se se l'avete presente che è una storia diciamo una storia chiaramente diciamo africana insomma di origine africana anche se il disegnatore è un francese mi sembra o se l'ho francese l'autore o se l'ho mi sembra o se l'ho tra l'altro ha fatto uno splendido film principi e principessi sì sì esatto ne ha fatti molti sono un po' ispirati a questo stesso concetto cioè in cui dei fenomeni apparentemente magici no in questo caso vabbè nel caso della strega era il motivo per cui il bambino si chiede sostanzialmente come mai la strega è cattiva e nel corso del film sostanzialmente arriva alla spiegazione e anche a liberare il villaggio dalla superstizione e alla credenza di quello che era intorno alla strega e un altro un altro film che non so se ha avuto grande successo insomma che secondo me ha trasmesso questa cosa è World War Zita non so se è quella cosa della pandemia sostanzialmente in cui effettivamente il protagonista sostanzialmente trova una spiegazione molto semplice che permette sostanzialmente alla umanità di proteggersi dall'infezione insomma sconfiggere le cause dell'infezione anche quella è una cosa che viene fuori nel corso del film da una serie di osservazioni apparentemente incomprensibili che però alla fine appunto trova una composizione un'altra cosa che secondo me è molto importante è stata molto importante nei tempi recenti per trasmettere questo aspetto positivo della scienza è la serie Criminal Scene Investigation CSI che manifesta sostanzialmente un aspetto che non è molto diffuso cioè si è parlato molto degli aspetti fantastici delle scoperte scientifiche quindi l'innovazione tecnologica che cosa può permettere gli aspetti come si può dire fuori dall'ordinario che permette di vedere però questa serie invece sostanzialmente fa vedere che la scienza permette di arrivare a una verità perché poi la verità giuridica cioè la prova sostanzialmente è quella cosa che tutti accettano sostanzialmente al di là di certe di certe sottigliezze ma insomma accettano come la verità è consolidata e secondo me questo messaggio è importante e non mi sembra di aver visto una cosa del genere in altre opere cinematografico serie televisive scusi se faccio una domanda lei è uno scienziato sì io sono un chimico un chimico quindi secondo me è bene ci sia un dialogo tra scienziati per però volevo sostanzialmente manifestare un fatto positivo di questo no no diciamo perché questo è un tema interessante che io diciamo di cui mi occupo da storico Andrea più dal punto di vista filosofico cioè e se davvero ci sia il momento in cui ricompongo in questa maniera una volta di cento anni nella vita di una persona non tutti ci arrivano diciamo una delle questioni che emerge anche dal libro ma insomma è se davvero la scienza funzioni così o se non sia diciamo l'esigenza di rappresentarla in maniera con il momento diciamo geniale sia solo una esigenza di rappresentazione ecco però vi farei discutere fra scienziati però questo tema è molto legato all'aspetto cioè un tema meno scientifico di quello che almeno non so mi viene in mente ne abbiamo parlato un'altra volta detto da Sherlock Holmes e il ragionamento di Sherlock Holmes che sono sbagliati sono delle induzioni completamente non giustificate e che però nel racconto di Conan Doyle sono presentati come un momento brillantissimo di ricostruzione della realtà e di svelamento di cosa effettivamente è avvenuto però sono delle induzioni sono dei ragionamenti fallati insomma che vengono fatti in quel modo e portano su strade nel racconto portano alla verità del racconto ma riproposte nello stesso modo in cui appunto il personaggio ragionava porterebbero a delle conclusioni spesso spesso sbagliate quindi no è questo il punto quanto quanto se ho capito bene mettere in scena proprio il procedimento scientifico sia possibile a questo punto o sia anche avvenuto in realtà in maniera insomma come dire realistica era questo il punto di discussione perché per me non ho una risposta a questo è importante poter vedere ai loro il fatto che talvolta raramente raramente questi eventi avvengono certo uno non se lo deve aspettare nella propria vita però la spiegazione è sempre un suo fascino così come gli alieni sono affascinanti oppure immaginare come può funzionare un pianeta vicino a un buco nero sono elementi affascinanti e interessano anche il fatto di riuscire a comporre dei pezzi apparentemente slegati in un disegno è un evento esaltante che talvolta in un'opera d'arte come un film insomma comunque comunicano questo riescono a comunicare questa cosa che è vero non avviene la gran parte della scienza è fatta da piccole cose da tanti sviluppi tecnici eccetera che non hanno niente a che fare con questi momenti però questo potrebbe essere diciamo una gratifica che un momento di gratificazione che affascina però scusa Paolo voglio per voi secondo me diciamo invece questo è l'aspetto che spesso maggiormente emerge nella rappresentazione scientifica cioè che questi momenti vengono no? però è chiaro dal punto di vista leggevo in un libro su fumetti di medicina no? l'intervento chirurgico nel fumetto eccetera c'è il momento vivo o muore ma non è così no? il postoperatorio è una cosa lunga che dura settimane a volte giorni quindi a volte ma non è sempre così la costruzione della scienza parafrasando fossati è una cosa dura difficile ci sono certamente il momento che può essere il lampo c'è la serendipity no? voglio dire famosissima per cui Fleming vede e gli viene l'idea ma poi c'è tutta una fatica mi ricordo che dicevano insegnanti di musica ma Beethoven non è un mica uno salzava di notte e veniva lì il coper uno lavorava tutti i giorni una metodicità impressionante fino a arrivare al momento in cui usciva ma c'era un lavoro dietro è difficile rendere al cinema e certamente è meno produttivo ecco per cui si privilegia l'aspetto del colpo in contagion c'è il momento in cui la scienziata di fronte al primo che sopravvive e capisce che ha centrato il vaccino c'è il grande momento e devo dire quello è un momento bello e può capitare però è solamente un aspetto di una grande complessità soltanto due righe secondo me ha ragione il chimico perché per esempio in astronomia capita spesso quando ci sono sviluppi tecnici e subito si possono osservare dimensioni che prima non erano raggiungibili o in microscopia o la penicilina o il grafeno o ogni tanto capita quello forse non nel modo del liceo la ipotesi la costruzione il pensato però in astronomia ha capitato parecchio questi ultimi venti anni o no è di un altro modo no diciamo non lo so dipende anche lì non è così semplice per esempio ho pensato James Webb Space Telescope quello che dell'infrarosso ha veramente aperto una finestra dell'infrarosso da qualche anno da neanche un anno abbiamo improvvisamente visto delle galassie che erano che sono veramente a distanza di meno di mezzo miliardi di anni da Big Bang qualche centinaio di milioni da Big Bang la prima volta che vediamo queste galassie ce le aspettavamo a un certo punto è venuto fuori che no non ce le aspettavamo perché sembrano essere troppe no quindi quello che è successo è sì abbiamo capito qualcosa o abbiamo capito che in realtà dobbiamo cambiare qualcosa cioè la rivelazione spesso ci mette in crisi non ci risolve un problema e questo è un aspetto interessante della scienza questa domanda che effettivamente è complessa perché quello che succede stiamo parlando della scienza nella narrazione e come appunto il chimico il medico tutti quanti sanno cos'è cosa succede nella vita quotidiana e che cos'è veramente e di quello stiamo parlando di scienza quindi cos'è importante raccontare cosa succede veramente o utilizzare la scienza come un personaggio perché cosa diciamo una narrazione è un meccanismo che deve funzionare e il meccanismo per funzionare deve creare un conflitto parte delle aspettative le aspettative vengono deluse e poi vengono ricomposte c'è sempre un un andamento di questo tipo più o meno in una narrazione sto facendo sto veramente semplificando in maniera eccessiva qual è l'aspettativa della scienza su cui tutti fanno poi cadere la crisi la scienza ci risolve problemi se è una società in cui la scienza viene considerata la base di tutto quello che facciamo e poi improvvisamente non funziona qualcosa allora la scienza viene spesso utilizzata in questo suo fallimento per poi magari recuperarlo attraverso poi la riscoperta che avviene attraverso l'elemento umano se ci pensate è un meccanismo molto semplice una situazione iniziale in cui tutto sembra armonioso in cui la scienza magari ha questo ruolo di dare risposte viene messo in crisi da qualcosa e poi anche la scienza stessa che ci riporta alla soluzione attraverso però l'inserimento dell'elemento umano è proprio un meccanismo di tantissime storie vengono raccontate in questa maniera quindi effettivamente manca un po' il discorso sulla scienza per com'è nella realtà per la quotidianità della scienza manca perché è difficile da inserire in una narrazione efficace in un meccanismo di questo tipo ed è anche di per sé una cosa bella per cui probabilmente ci sono dei film o delle storie che tentano di farlo chiaramente giocando un po' sul filo del rasoio perché non imboccano quelle strade quei meccanismi narrativi che diciamo sono sicuri che creano la storia creano una storia che è immediatamente coinvolgente scusate io però vi devo richiamare all'ordine perché tra un po' ci buttano fuori nel senso ora vi lascio andare avanti fino a che non arrivano lì volevo solo dirvi di seguire il programma di Caffè Scienze perché ultimamente stiamo preparando moltissime cose tra cui per esempio ci sarà di nuovo Marco Ciardi a fare da moderatore sarà la domenica mattina su a Villa Galileo e parleremo di astrolinguistica parlare con gli alieni se no c'è anche altre presentazioni di libri qui e quindi parleremo anche di neuroscienze insomma parleremo di varie cose quindi seguite un po' il programma e vi ripasso la parola dicevo secondo me l'esempio più antiscientifico è Arrival in cui la neuroscienziata impara dagli alieni a vedere nel futuro e quindi copia il libro che scriverà nel futuro e diventa favosa questa mi sembra una una soluzione bellissima se volete concludere finire ma io volevo ricollegarmi a quello che dicevi che dicevamo prima a proposito del metodo scientifico nel cinema in particolare nei film di Sherlock Holmes come peraltro nei romanzi di Conan Doyle viene rappresentato il metodo dei detective che poi è lo stesso dei medici che dai sintomi devono risalire alla causa mentre il detective dagli indizi deve risalire all'assassino è l'abduzione ora qual è il punto che come diceva lui è una fallacia nel senso che perché l'abduzione sia valida ci vuole una prova sperimentale per esempio il detective vede delle impronte profonde nella neve sa che se l'assassino è molto grasso allora fa impronte profonde quindi deduce che il colpevole è il ciccione fra i sospettati ecco ma non è detto perché potrebbe essere magro il colpevole aver portato uno zaino pesante sulle spalle quindi le abduzioni devono essere sempre confermate da prove mentre invece il detective sia dei romanzi di Conan Doyle sia nelle trasposizioni cinematografiche tra l'abduzione subito Watson dice bravo è vero questo è il limite diciamo manca la parte sperimentale una volta eliminato l'impossibile tutto quello che resta non può essere che altro che necessario ma lo sai ma in fisica quanto si andrebbe avanti questo è il limite è chiaro il cinema deve semplificare come il romanzo e quindi si passa subito dall'ipotesi all'accettazione diciamo della causa che però dovrebbe essere confermata dall'esperimento che manca invece bene io vi ringrazierei tutti quanti ringrazierai soprattutto appunto i nostri oratori e appunto vi invito a seguire il programma perché ci saranno altre presentazioni di libri interessantissimi qui a Leoplate e inoltre ci saranno gli incontri la domenica mattina a maggio a Villa Galileo la casa di Galileo si stanno preparando anche dei caffè scienza alla società canottieri su altri aspetti insomma seguiteci grazie